La folla acclamante e commossa ha salutato nella piazza vaticana l'apoteosi del Pontefice che si avviava sulla sedia gestatoria sull'altare davanti alla basilica dove sarebbe stato incoronato coltriregno. Uno spettacolo di fede e di splendore reso suggestivo dalla lunga processione dalla parata singolarmente affascinante che precedeva Paolo VI, benedicente nel momento della suprema gloria. Il Papa era attorniato dai membri del Sacro Collegio, dai vescovi, dagli altri dignitari che assistevano alla messa insieme a regine e principesse, a personalità di governo e nobili. Poi il Cardinale Ottaviani gli ha imposto il triregno pronunciando la formula ricevi la tiara adorna di tre corone e sappi che tu sei il padre dei principi e dei re e che in terra sei il reggitore del mondo, il vicario del Salvatore nostro Gesù Cristo, cui spettano onore e gloria nei secoli dei secoli così sia. La Chiesa accoglieva sulla Cattedra di Pietro un nuovo successore. Grazie per la visione!